Ogni anno escono una miriade di Isekai e penso che chiunque ormai ne abbia le tasche piene di roba trita e ritrita. Io no, per niente. Il genere Isekai è il mio preferito perché spesso e volentieri è estremamente leggero come magari può essere con Osuba oppure con una storia molto interessante e più seria come Yojo Senki per dirne uno. Oggi invece voglio parlarvi di un anime rivoluzionario, uno di quelli che non avete mai visto, Isekai col Big Brain. Sì, sto parlando di Spirit Chronicles, un'opera che sembra diversa da tutti gli anime Isekai usciti da 20 anni ad oggi. Ok, quest'ultima parte è assolutamente ironica. Per chi non volesse alcuno spoiler di sorta vi metterò a schermo adesso quando inizierà la parte spoiler così da sapere quando chiudere il video per evitarvi ogni sorta di informazione aggiuntiva che vada oltre la trama, il design dei personaggi e l'incipit del primo episodio, senza approfondimenti ovviamente. Detto questo vi spiego in soldoni in cosa consiste la trama. Abbiamo due facce della stessa medaglia, più o meno. Da un lato un ragazzo giapponese di nome Harutomakawa che dopo tanto tempo reincontra la sua amica di infanzia ma purtroppo muore dato che l'autobus su cui viaggiava deraglia sui binari di un treno e viene completamente travolto. Dall'altro lato abbiamo Rio, un bambino orfano che abita vicino ai bassi fondi della città mangiando una volta ogni tanto e vivendo con persone che approfittano e abusano di lui. Il ragazzo è in cerca di vendetta per la morte della madre proveniente da una terra lontana. Infatti in questo mondo le persone con i capelli neri come lui sono molto rare e suscitano facilmente degli sguardi di curiosità nelle persone che gli stanno intorno. Un giorno a Rio succede qualcosa di strano. La sua mente viene invasata dai ricordi di un luogo molto distante e a lui sconosciuto. In questi ricordi vede cose completamente lontane da ciò che lo riguardano. Già, quelli sono proprio i ricordi di Harutomakawa, il ragazzo morto nell'incidente e che si sono trasferiti nella mente di Rio, come se da quel momento Rio e Haruto fossero la stessa persona. Insieme a questo Rio ottiene anche un particolare potere che potrebbe aiutarlo nel suo obiettivo di trovare la terra da cui proviene la madre e vendicarne la morte. Contemporaneamente a questo viene coinvolto nel rapimento di un membro della famiglia reale e inizialmente accusato di esserne l'artefice, nonostante lui in realtà sia colui che l'ha sventato, quindi viene torturato fino a quasi la morte. Viene infine salvato e curato, dopodiché per stebitarsi e scusarsi per l'accaduto, il re invita Rio all'Accademia di Magia, in cui potrà imparare a controllare i suoi poteri. Questo è sia il primo episodio in soldoni che è l'incipit della trama. Soltanto da questo l'opera sembra estremamente interessante, ma è un classico Isekai, niente di nuovo. Ricorda molto a lungo andare The Rising of the Shield Hero, ma diciamo che in confronto a quest'ultima opera non lo considererei un granché, qualitativamente parlando. Infatti Nofumi, almeno all'inizio, è molto più antieroe della maggior parte dei personaggi di un Isekai classico. Invece Rio è un protagonista molto bunista ed è una cosa che non gradisco granché ad essere sincero. I dialoghi sono molto semplici e assolutamente prevedibili. Inoltre le animazioni non sono chissà di quale livello. Credo che per apprezzare appieno quest'opera bisogna essere veramente un fanacanito di anime fantasy Isekai e simili. Io personalmente preferisco opere di questo tipo ad altre più complesse per il semplice fatto di volermi rilassare quando guardo un anime fantasy per staccare la spina. Il design di Rio da adulto che ci viene mostrato nell'ending sembra molto carino. Nulla di innovativo o estremamente particolare, ma sostanzialmente ben fatto. Mentre Rio da bambino lo preferisco, mi sa molto di genietto apatico, anche se ovviamente così non è. Quello di Selia al contrario lo adoro, lei è fatta molto bene e il suo design inizialmente mi ha ricordato quello di Niaruko, anche se ovviamente basta guardare meglio per notare delle enormi differenze. Adesso vi parlerò anche del secondo episodio e non inserirò informazioni anche sugli altri due già usciti perché altrimenti il video diventa troppo lungo e non avrebbe senso riassumervi tutto. Se non volete spoiler del secondo episodio vi invito a chiudere il video, ovviamente dopo aver lasciato un like e un commento sull'anime in questione. Occhiolino. Detto questo passiamo all'episodio 2. L'episodio 2 è molto strano e personalmente l'ho trovato decente e tutt'al più nella seconda parte. Lo si può riassumere con Rio entra all'accademia in cui scopre che Selia è un insegnante e viene ammesso proprio nella sua classe. Inizia subito il bullismo nei suoi confronti, in quanto non un nobile ma un popolano orfano qualunque. Selia ammette di considerarlo un prodigio, in quanto con alcune materie non ha alcun problema. Ma in effetti Rio possiede i ricordi di Haruto e quest'ultimo era uno studente universitario, quindi la matematica base per lui non è un problema, anzi. Sempre grazie ai ricordi di Haruto, Rio è bravo nell'arte della spada, in quanto Haruto praticava il kendo, un'arte marziale sconosciuta in questo nuovo mondo e per questo l'istruttore, uno dei pochi che non ha pregiudizi su Rio, lo riconosce come un vero talento. Inoltre, la stessa Selia fornisce ripetizioni al nostro protagonista per le materie a lui sconosciute. Insomma, sin da subito Rio attira troppe attenzioni, ma per non creare problemi, decide di comportarsi in modo umile e sottomesso di fronte ai suoi compagni facenti parte della nobiltà. Classico cliché stereotipatissimo dei nobili cattivi, ma andiamo avanti. Rio dimostra ancora una volta di essere un genio, venendo scelto dal suo istruttore come uno dei cavalieri che rappresenterà l'Accademia contro dei veri cavalieri in un duello amichevole e per nostra sfortuna reincontriamo il cavaliere che ha torturato il nostro protagonista nell'episodio precedente e che ci rivela che per quello è stato punito. Con il risentimento di cento uomini decide di fare sul serio contro Rio, ma viene facilmente sconfitto e dimostra di non possedere veramente nulla di cavalleresco. Dopo aver umiliato il finto cavaliere, Rio si dilegua attirando nuovamente le attenzioni di tutti e in tutto questo la piccola Celia accresce il suo affetto per lui. La scena dopo vediamo Charles, perché sì, mi sono ricordato il suo nome solo adesso, seduto a chiacchierare con un individuo poco raccomandabile che lo istiga contro Rio per accrescere il suo odio e l'episodio finisce con Rio che riceve una dichiarazione che a Celia non fa poi così tanto piacere. Di questo episodio non c'è veramente nulla da dire se non che i poteri di Rio non sono stati ancora ben definiti, ma fidatevi lo saranno in seguito, in quanto già sappiamo che la sua non è vera e propria magia, anzi, non è completamente privo. Inoltre l'individuo seduto con il buon vecchio Charles altri non è che lo stesso che nel primo episodio ha ucciso l'uomo sconfitto da Rio che aveva rapito Flora e proprio per questo odia Rio dato che ha sventato il pieno di rapimento e i danni della famiglia reale. Inoltre non vi ho ovviamente parlato nella parte non spoiler del video di alcune cose del primo episodio come la ragazza che compare di fronte a Rio. Questa si chiama Isha ed è ovviamente legata ai poteri del nostro protagonista, ma non sappiamo ancora in che modo. Speriamo che in seguito ci vengano fornite spiegazioni più dettagliate di quelle presenti negli episodi usciti sino ad ora e speriamo che non si riduca al solito anime haremco ragazze che si innamorano del protagonista a caso. Inoltre non vedo l'ora di vedere Rio un pochino più cresciuto, come quello della ending per capirci, in modo da vedere come gestiranno il tempo in soli 12 episodi circa. Comunque questo era tutto per il breve video di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate di Spirit Chronicles e se anche voi lo state seguendo solo per Selia. Non dimenticate di iscrivervi se non siete iscritti e di condividere il video in modo da farlo arrivare a più persone possibile. Noi come sempre ci sentiamo, al prossimo video.